Grazie Presidente. Il lavoro da piattaforma che dovrebbe rappresentare un'opportunità si sta invece affermando come una nuova frontiera dello sfruttamento legalizzato. Io vorrei innanzitutto ringraziare la relatrice Brunet per il suo lavoro straordinario e anche per aver preso in considerazione i 23 emendamenti che ho presentato sulla sua relazione. Io credo che sia arrivato il momento politico, il momento è maturo affinché possiamo avviare un'apposita direttiva che affronti ogni aspetto del lavoro da piattaforma per sancire nuovi diritti ed eliminare ogni forma di sfruttamento. Nel febbraio scorso il Tribunale di Milano ha stabilito che i lavoratori delle piattaforme devono essere considerati a tutti gli effetti lavoratori subordinati e questa sentenza, come le altre che ci sono state emanate in altri Stati membri, danno a noi oggi il compito come legislatori europei di intervenire e quindi prevedere una direttiva che sancisca diritti equi, giusti e quindi porti ad una contrattazione collettiva tra le parti sociali che possa definire queste nuove forme di lavoro. Grazie.